Parigi, Madrid, Amsterdam, anche Praga, Berlino e Barcellona sono tra le mete scelte dai salernitani per trascorrere la Pasqua. Il turismo sembra essere in lenta ripresa, anche se i salernitani tendono comunque a cercare offerte convenienti. E proprio per questo scelgono le capitali europee, anche per brevi soggiorni di due o tre notti. Sembra infatti che soggiornare nelle città d'arte italiane costi addirittura, in certi casi, il doppio rispetto al resto d'Europa. Ma la crisi diciamo che non ha frenato questa voglia di vacanze. I salernitani prediligono sempre le capitali europee, Parigi, Madrid, Amsterdam, quest'anno è andata molto bene, con una new entry che diciamo già da qualche tempo si sta attestando tra le preferite, Istanbul. Istanbul con dei voli comodi da Napoli è andata abbastanza bene quest'anno. Poi si scelgono le crociere e per chi può magari allunga il soggiorno dal pacchetto del ponte ad una settimana scegliendo magari l'Egitto, le mete un pochettino più calde. Vediamo quest'anno, insomma, per il nostro caso una sorta di ripresa. L'abbiamo quantomeno, come dire, anche frutto di promozioni, pubblicità e quant'altro. Cerchiamo di stimolare un po' il cliente, però oggettivamente la contrazione c'è. Cerchiamo di vedere, come dire, il bicchiere mezzo pieno e quindi essere fiduciosi. La politica degli albergatori in Italia è una politica assolutamente fuori dal coro rispetto al contesto europeo. Quindi le destinazioni maggiori che gli italiani stanno chiedendo sono voli low cost abbinati ad alberghi in capitali d'Europa o dintorni. Basta pensare che il rapporto un weekend a Firenze rispetto al volo più albergo a Praga è un rapporto 1-2.